Rispondo con molto piacere all'indito e alla sfida sulla domanda fondamentale che ogni genitore e parente e amico che non si occupa di filosofia ci ha chiesto almeno una volta nella vita e di fronte alla quale noi spesso ci siamo trovati in braghi di tela e non sapevamo cosa rispondere. Dopo tanti anni nella disciplina e facendo un po' della filosofia anche la professione voglio cercare di rispondere a questo tipo di domanda mostrando che in realtà non c'è niente di misterioso o particolare nel senso della filosofia e nell'utilità della filosofia perché può essere un qualcosa di anche molto semplice e quotidiano. Per spiegare questa intuizione porterò l'esempio di un piccolo evento che mi è successo di recente. Io sono un ciclista mediocre e uno che ha appena iniziato da poco fa un minimo di giri però ho la sfortuna di vivere in alta montagna quindi mi devo misurare con i grandi passi alpini. In particolare la cosa di cui voglio parlare e da cui prendo spunto è che tre mesi fa sono riuscito a andare da Bormio a Passo dello Stelvio in bici. Ora non voglio fare un grande padengirico su questo perché ripeto sono molto scarso e è stato un po' un caso non me l'aspettavo in un certo senso. E questo non aspettarsi di riuscire a farcela anche se con molta fatica e un po' di pause è stato qualcosa che mi ha fatto riflettere. Da un lato cos'è questa cosa? Perché questa cosa così particolare mi ha fatto riflettere? Beh possiamo pensare che banalmente ho superato i miei limiti, quelli che credevo essere i miei limiti e quindi è una cosa significativa. Però quando ci si chiede perché un qualcosa è significativo ci si sta chiedendo la domanda sul senso della questione e quindi si entra in un territorio chiaramente più filosofico. Una risposta ovvia ma fuorviante potrebbe essere che sono stati in un posto molto bello, molto in alto e quindi questo ha una dimensione chiaramente filosofica. L'altezza secondo certe vulgate filosofiche ha una dimensione propriamente concettuale perché ci permette di astrarci dalla quotidianità. Ecco in realtà questa non è stata la risposta che mi sono dato e può essere vera in certi casi ma non lo era nel mio caso. Mi sono accorto invece che era un qualcosa di filosoficamente interessante perché poneva in gioco la mia identità. Ovvero pur essendo stato un piccolo evento che probabilmente non si ripeterà mai più, non voglio ingrandirlo, però è un qualcosa che ha toccato la mia identità. Ma cosa vuol dire un qualcosa che ci tocca l'identità? Ci sono ovviamente tante tante teorie su cosa vuol dire identità e non possiamo toccarle qui. Da un lato possiamo pensare che l'identità è un filo di continuità tra il presente e il passato in cui noi ci riconosciamo più o meno continuamente. Questo vuol dire che l'identità non è una sostanza indipendente dalle esperienze che abbiamo avuto e vuol dire che le esperienze che abbiamo avuto, se non ce le ricordiamo, costituiscono dei buchi neri o dei buchi perlomeno nella nostra identità. Oppure possiamo pensare che l'identità è per esempio una capacità, una capacità nei termini di avere controllo, di poter progettare il sé, di essere autonomi rispetto a quello che succede. E questa è un'idea di identità un pochino diversa, che può essere mescolata con la precedente, ma che implica una capacità ulteriore, di un livello più alto. I problemi che ha questa concezione sono per esempio quelli di pensare che quando siamo molto piccoli non abbiamo ancora questo tipo di capacità e quindi non abbiamo in un certo senso l'identità che poi riconosciamo e questo è vero. Tutto questo per dire che una piccola esperienza che ha avuto un certo significato nella mia vita mi ha fatto riflettere su alcune cose su cui non riflettevo da diverso tempo e che in realtà non costituiscono nemmeno le mie capacità e i miei interessi disciplinari in senso proprio ma mi hanno toccato e indagare il senso in cui mi hanno toccato mi ha permesso di capire che la mia identità è stata toccata da questo è stata toccata perché ho avuto un'esperienza diversa che è in un certo senso discontinua da tutto il resto benché sia molto piccola ed è stata toccata perché anche la mia capacità di controllo che costituisce l'identità secondo altre teorie può fare cose che io non pensavo fossero possibili per cui lo stesso evento banale di vita personale analizzato da un punto di vista filosofico inteso in questo senso può dare risposte diverse entrambe giuste o entrambe sbagliate secondo dei casi e per rispondere infine alla domanda che costituisce il senso di questa breve chiacchierata piuttosto che chiedersi perché serve la filosofia e a cosa serve la filosofia forse ci possiamo chiedere dove la possiamo trovare e in che senso e in che termini e la mia risposta è che possiamo trovarla anche nelle piccole questioni piccole e grandi questioni quotidiane perché ogni piccola e grande questione quotidiana nasconde in un certo senso le grandi questioni filosofiche più o meno eterne però le nasconde in maniera sempre non banale e l'esercizio propriamente filosofico è cercare di capire in che senso in maniera non banale ci sono delle questioni filosofiche anche negli aspetti quotidiani grazie e ciao a tutti